Sono 110.168 i nuovi casi di Covid registrati a livello nazionale in base al bollettino rilasciato dal Ministero della Salute, mentre il dato regionale della Sicilia si attesta a 8.425 nuovi positivi. In provincia, nelle ultime 24 ore, sono state 393 le persone risultate positive al SARS-CoV-2, tutte in isolamento domiciliare. 121 pazienti sono di Gela, 120 di Caltanissetta, 33 di Niscemi, 29 di San Cataldo, 15 di Mazzarino, 12 di Serra di Falco, 11 di Sommatino, 10 di Santa Caterina Villarmosa, 9 di Mussomeli, 7 di Riesi, 5 di Delia, 4 di Campofranco, 4 di Sutera, 3 di Butera, 3 di Vallelunga Paratattameno, 2 di Bombenziere, 2 di Marianopoli, 2 di Resuttano e 1 di Mileno. Ricoverati in degenza ordinaria, due pazienti di Caltanissetta, 1 di Santa Caterina Villarmosa e 1 di Niscemi. Dalla degenza ordinaria sono stati dimessi un paziente di Gela e uno proveniente da fuori provincia. Guariti dal Covid-19, 85 pazienti di Gela, 81 di Caltanissetta, 40 di Niscemi, 15 di San Cataldo, 13 di Mussomeli, 10 di Sommatino, 8 di Riesi, 8 di Vallelunga Paratattameno, 5 di Milena, 4 di Butera, 4 di Campofranco, 4 di Delia, 3 di Serra di Falco, 3 di Sutera, 2 di Marianopoli, 2 di Mazzarino, 2 di Santa Caterina, 2 di Villalba, 1 di Acquaviva e 1 di Montedoro.